Buona Pasqua, semplicemente di cuore, affettuosamente, orgogliosamente, testardamente, serenamente buona Pasqua. Non è un video politico, non è un video di messaggio, è un video di ringraziamento fatto dal mio prestigioso bilocale in quel di Milano, fatto poco politicamente corretto dalla camera, dove ho appena rassettato pigiamino della bimba e parte del lettone del papà, nonché lettino per il fratellone quando viene da queste parti. Ci tengo a dirvi grazie in una domenica molto complicata, soprattutto perché, vi ricordate, Pasqua con i tuoi. Pasqua con i tuoi qua è complicato, quindi ci tengo solo a dirvi grazie di cuore per quello che state facendo, per come lo state facendo, per come state affrontando. Adesso riesco perfino sul Torrazzino, che lusso, poi se avete voglia vi porto non in bagno che in condizioni pietose, però facciamo tutto il corridoio per arrivare nel cucinino e nel salottino. Però vi dico grazie perché, oltretutto, io ricordo le Pasque passate, pioveva sempre, Pasqua e Pasquetta, brutto, pioggia, nebbia, freddo, addirittura neve. No, adesso no. Adesso c'è il sole, adesso fa caldo, adesso uno vorrebbe e vado al mare, vado al lago, vado ai monti. No, no. Casa, da solo, per quello che mi riguarda, come tanti di voi, una Pasqua e un augurio particolare a tutti coloro che sono soli, che stanno faticando, che stanno guardando le fatture, le bollette, le scadenze. Di questo magari parleremo oggi pomeriggio perché non voglio entrare né in polemica né in niente che sia diverso dal grazie, da un abbraccio, da un affettuoso bacio a distanza. Mi mancate, mi mancate perché il mio modo di vivere la vita e di vivere la politica non è quello di stare chiuso, in ufficio. Si sta in ufficio tutto il tempo necessario ma poi si sta in mezzo alla gente, si esce, si corre, si incontra, si ascolta, si scopre, si abbraccia, si bacia, si fotografa, si ascolta. Quindi è chiaro che manca a me come manca a tanti di voi il rapporto personale, l'affetto, l'amicizia, l'incontro. Oggi sono a Palermo, domani passo a Treviso e poi incontro gli autisti degli autobus a Roma e poi ho un appuntamento con i medici a Torino ma devo correre dagli agricoltori in Puglia. Torneremo, torneremo a fare, a forcare, a costruire. Per intanto grazie, grazie a Raffaele e con lui a tutti i sindaci, grazie a Lanto. Vedo che molti stanno scrivendo su temi assolutamente veri, concreti, reali, affitti, bollette, mutui, cassa integrazione. Oggi un quotidiano, un grande quotidiano del sud, uno dei più grandi, il mattino di Napoli. Titola a tutta pagina, non è sicuramente accusabile di leghismo, di salvinismo, aiuti zero. Non è arrivato ancora un euro, però avremo modo di parlarne. Per intanto io voglio usare questi pochi minuti che magari state trascorrendo, preparando qualcosa in casa, riscoprendo il bello di fare il pane, di fare torte. Io ho sentito qua i vicini di casa, io sono al primo piano qua a Milano, sono in un condominio come tanti. Ecco, vedete, alle mie spalle, gru, palazzi, altri palazzi, un po' di tricolori, un po' di bandiere, un po' di bambini. Stamattina dal piano di sotto arrivava un profumo di torta bestiale, bestiale. Mi ricordava la mia nonna, perché questa era la casa dove viveva la mia nonna. Infatti dal lampadario si può vedere, è una casa incasinata, appendo cravate. Ieri mia figlia mi ha disegnato sulla lavagna nuova, ti voglio bene a papà. Libro pronto da leggere nei prossimi giorni, tanto qua si legge, ci si aggiorna, si studia. Non l'avevo mai letto, l'Isola di Arturo, di Elsa Morante, me l'ha suggerito Francesca. La ringrazio perché mi sta piacendo molto e quindi grazie. Vi voglio semplicemente portare per un minuto in giro per casa, ripeto, questa è la zona off limits del bagno, penso possiate fare a meno. Corridoio, corridoio che ha foto dei bimbi, libri, 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 libri. Un saluto ai librai che cominciano da domani evidentemente, qua è l'anticamera, anche qua fra Milan, canne da pesca. Me ne hanno regalate per il compleanno più di una, canne da pesca, canne da pesca e prima o poi si potranno tornare a usare. Adesso facciamo quello che si deve intanto. Questo è il cucinotto dove creo hamburger, cotolette ai fornelli per i bimbi che si accontentano di quello che il papà porta loro. Questo è frigo, freezer, disegni, più che una casa un accampamento a misura di bambino. Questa è una forma, ci tengo a far vedere il parmigiano che mi hanno regalato alcuni, guardate che spettacolo, dareggio. Prima o poi la aprirò e poi ripeto, vabbè, salottino anticamera buia e poi il tempio di mia figlia. Questo è il salottino, salottino, saranno 20 metri se è tanto, con le foto, mezzo salottino va via con la casetta della principessa. Ovviamente è guai a entrare, guai a entrare, chissà se mi vedesse, questo è il suo regno con tutti i suoi giochi. Ecco qua c'è la sua spesa, che almeno nell'immaginario fa, non la può fare veramente, però fa la spesa così. Ovviamente non può mancare il vessillo, eccolo qua. E prima o poi torneremo anche a parlare di calcio, chi lo sa. Grazie al buon Dio, per intanto vi dedico quello che mi ha fatto la bimba col gessetto, questo è dedicato a voi. Non so se si vede al contrario, non ho ancora capito, però penso che si intuisca. sono io che vi voglio tantissimo bene e questo ti dà una forza per reagire, per fare, per combattere che non ti toglierà mai nessuno. Un attimo sul divano la casa è finita qua, non c'è nessuna reggia, non c'è piscina, non c'è solarium, però va bene così. Quindi vi voglio dire grazie, vi voglio promettere che non si molla, mai, anche perché superata l'emergenza sanitaria ci sarà un'emergenza economica alle porte che già, scendendo qua in condominio per far la spesa, quei signori dello stesso palazzo, commercianti che non sanno se riapriranno, partite IVA che non hanno visto una lira, imprenditori che sono andati in banca e si sono sentiti dire che per lei non c'è nulla, perché non ha abbastanza garanzie, perché ha dei debiti pregressi, perché era in difficoltà prima del virus, ma buondio, se uno già era in difficoltà prima del virus è chiaro che dovrebbe essere il primo a essere aiutato, visto che è arrivato questo maledetto e inatteso ospite in casa. Leggo che ci sono soluzioni che si stanno studiando negli ospedali italiani per riuscire il prima possibile, speriamo, perché non ne possiamo più, ovviamente facciamo quello che ci chiedono di fare i medici, gli scienziati, i ricercatori, ci teniamo alla nostra, ma soprattutto alla salute degli altri, dei più anziani, però non se ne può più, anche perché, ahimè, questo lo devo dire perché me lo state scrivendo a migliaia, qualcuno pensa che le tasse si possano tornare a pagare da giugno, ma che film ha visto colui che pensa che a giugno gli italiani possano tornare a pagare IVA, IRPEF, IMS. Ieri parlavo con un amico, Ciao Lele, che mi diceva che in edilizia, ad esempio, che è un settore che soffre tantissimo, se non sei in pareggio con tutti i versamenti, con tutti i contributi, non ti danno il DURC, il documento di regolarità contabile, quindi non puoi neanche entrare in cantiere, non puoi andare a lavorare, non puoi andare a fare il muratore, l'idraulico, non puoi neanche andare a fare il commerciante senza quella certificazione, basta burocrazia, ragazzi. Ripeto, mi fermo agli auguri pasquali, poi ne parleremo oggi pomeriggio, stasera, da domani in avanti, visto che la gita di Pasquetta non la faccio io, non la fate voi, però basta burocrazia, basta coi fermi, i timbri, le certificazioni. Ecco, dopo questo virus spero che quello che non ci hanno permesso di fare in passato sia evidente, naturale, necessario, via, via, semplificare tutto, silenzio assenso, chi vuole può cominciare a costruire, chi vuole può aprire un'attività e si riparta sulla fiducia, sulla fiducia dello Stato nei confronti dei cittadini, sul rispetto, non sui controlli preventivi, sul sospetto preventivo, sul dubbio che siano tutti evasori, truffatori, ladri, delinquenti, liberiamo, c'è bisogno veramente della rivoluzione liberale che si tenta in vano di fare da 30 anni, da 40 anni, libertà di impresa, libertà di studio, libertà di costruzione, libertà di movimento, libertà, niente burocrazia, niente centralismo, niente assistenzialismo, libertà. Su questo dovremmo fondare la ricostruzione, altrimenti non ricostruiamo niente. Vediamo se riesco a salutare qualcuno al volo, saluto Andrea, che è un fratello a Mantova con Luisella, saluto Andrea, un altro Andrea questa volta da Padova, saluto Giovanni, saluto Alessandro, saluto tutti coloro che ci stanno accompagnando in questi mesi, in questi anni, in questa avventura straordinaria, ma il bello lo diceva Fabrizio De Andrè, una delle mie passioni principali, quando gli chiedevano qual è, maestro, la canzone più bella che lei ha scritto, che lei ha composto, la sua risposta è quella che è la mia risposta, la canzone più bella deve ancora venire. Quindi è chiaro che ci saranno momenti di difficoltà, di crisi, di rabbia, di tensioni, di fame, di fame come quelli che vissero i nostri nonni, i nostri genitori. Il mio papà è del 1945, la mia mamma è del 1946, pensate quanti sacrifici fecero i miei nonni, quindi i loro genitori e i miei genitori, che compivano due o tre anni in piena ricostruzione. Ecco, se contiamo sulle nostre forze, se non aspettiamo aiuti, solidarietà, fratellanza che non arriveranno mai da Bruxelles, da Berlino, da Amsterdam, contiamo sulle nostre forze come fecero i nostri nonni, i nostri genitori, questo non significa essere egoisti, significa essere realisti, ricostruiremo un paese e lo lasceremo ai nostri figli più bello di come ce l'hanno lasciato i nostri genitori. Io ne sono convinto, non sono parole da dire a Pasqua perché è il giorno della ressurazione di nostro Signore e bisogna crederci. No, vede qua io tengo, come avrete capito c'è un po' di confusione in giro per questa casa, c'è sempre un po' di Natale, c'è sempre un po' di Pasqua, c'è sempre qualche sorriso, ma poi quando ci sono i disegni, questo è di mio figlio, le opere d'arte dei bambini, è sempre gioia. Questa ero io con mia figlia a Pinzolo, quanto mi manca il Trentino, quanto mi manca l'aria aperta, il parco giochi, era sei anni fa, va che roba, un po' meno pancia, però. Comunque vi devo dire che da un mese non sto mangiando farinacei, quindi da un mese sto andando avanti senza pane, pasta, pizza, ravioli, riso, focaccia e altrimenti rotolo, altrimenti stando chiuso in casa a leggere, a studiare, a rispondere al telefono. Ecco, posso approfittare di questa diretta, siete migliaia, chiedere scusa a coloro ai quali non riesco a rispondere in tempo reale. Anche stamattina, anche nel giorno di Pasqua, sindaci, governatori, a proposito un abbraccio particolare ad Attilio Fontana, Luca Zaia, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti, Donatella Tesei, Cristian Solinas, tutte le donne, gli uomini della Lega nei comuni, nelle province, nelle regioni, in Calabria, in Monte, in Sicilia, nel Lazio, in Friulia, in Toscana, grazie, in Puglia, in Campania, state facendo il massimo, mi arrivano foto molti, come tanti italiani, stanno ovviamente necessariamente riscontrando il bello della solidarietà e quindi portano la spesa a casa, portano i farmaci a casa, danno una mano, fanno compagnia ai bimbi con cui fanno due compiti, un abbraccio particolare a proposito a chi ha qualche anno in più, a chi è solo, a chi magari sta guardando questa diretta da solo, a chi ha magari asciugato le lacrime da poco, non siete soli, non siete soli, sarà 15 giorni, saranno 20 giorni, non di più, quando ho sentito Conte l'altra sera che ha detto chiusi in casa e chiusi i negozi e chiuse le aziende fino a maggio, mi è venuto male, onestamente, io spero che si possa riaprire il prima possibile in sicurezza, laddove possa essere garantita la vita, la salute e la sicurezza che viene prima di tutto, però in questi giorni vi devo dire che sto rispondendo al telefono a tanti imprenditori e a tanti operai e a tanti lavoratori, a tanti commercianti, a tanti manovali, a tanti muratori, a tanti liberi professionisti che hanno voglia di tornare a fare, a forcare, a disfare, a lavorare, a montare, a ricostruire, a soffrire, ecco, questa sarà l'Italia delle prossime settimane, quindi ci tenevo a ringraziarvi perché noi non siamo mai soli, chi è su questa pagina sa che ci sono momenti belli, momenti brutti, momenti di lotta, momenti di tranquillità, ci sono state una marea di vittorie e qualche sconfitta, ma dalle sconfitte si impara la lezione per preparare nuove vittorie e quindi voglio dire grazie perché siamo una comunità che è nata da poco e niente e adesso senza grandi mezzi, senza che si controllino, anzi tutt'altro dal nostro punto di vista, televisioni, radio, giornali, senza avere banche, senza avere soldi, però c'è l'affetto, c'è la fiducia, c'è il consenso e c'è una comunità di più di 4 milioni di amiche e di amici e quindi è questo il bello, stiamo insieme, io cercherò di aggiornarvi ogni giorno come sto facendo ieri, grazie al buon Dio ci hanno dato un po' di spazio anche per le nostre riflessioni sulle televisioni, sulle radio, sui giornali, però il canale della comunicazione diretta è quello che preferisco anche perché così riesco a ringraziarvi, riesco a ringraziare Sergio, riesco a ringraziare Carla, riesco a ringraziare Antonio, vedo tanti commenti sul governo, non avete ancora ricevuto la cassa integrazione, non avete ancora ricevuto il bonus babysitter, non avete ancora ricevuto i 600 euro, la banca non vi ha sospeso il mutuo, non avete ricevuto nulla in sostegno per il pagamento delle bollette, degli affitti, per caita di Dio, stiamo ovviamente dall'opposizione fornendo proposte, idee, suggerimenti, emendamenti, soluzioni, per il momento ascoltati molto poco devo dire, spero che nessuno pensi di poter fare da solo perché è più bello, più bravo e più intelligente di tutti, per ricostruire questo paese la fiducia e l'economia di questo paese ci sarà bisogno di tutti, se qualcuno pensa di far da solo, oltretutto, se qualcuno pensa di far da solo a suon di nuove tasse, prima di chiudermi permetto solo questa riflessione, leggere i giornali oggi era una cosa surreale, c'è qualcuno che probabilmente il mondo del lavoro non lo conosce, la vita vera non lo conosce, nelle vostre case non c'è mai entrato, nei vostri negozi, nelle vostre botteghe, nei vostri uffici, nelle vostre fabbriche, leggo che qualcuno sta proponendo una tassa patrimoniale per ripartire, sta proponendo di tassare i risparmi in banca, sta proponendo di tassare chi ha delle belle case, chi ha delle belle macchine, la covid tax, qualcuno addirittura, coi milioni di euro sul conto corrente, propone un prelievo forzoso sui conti correnti degli italiani, come accadde anni fa, no, no, saremo argine a qualsiasi tassa, a qualsiasi supertassa, a qualsiasi follia che metta le mani nei portafogli, nel lavoro, negli affetti e nei risparmi degli italiani, anzi è il momento di toglierne di tasse e burocrazia, se non si farà veramente un'enorme sforbiciata di tasse, complicazioni e burocrazia, libertà edilizia, libertà fiscale, gru, cantieri, scavi, ponti, gallerie, ferrovie, ci sarà bisogno di un paese che corre, che cresce, che lavora, perché non si può campare tutti di redditi, di cittadinanza o di assistenza, se non ci sono le imprese, se non c'è chi produce ricchezza, se non c'è chi crea lavoro, non si va da nessuna parte, quindi grazie, grazie a chi oggi sta lavorando, sta lavorando in una corsia di ospedale, sta lavorando guidando un'ambulanza, sta tenendo aperta la sua farmacia, sta tenendo aperto il supermercato, sta lavorando nei campi, ecco la lezione è che l'Italia del 2020 post virus dovrà ripartire dalle fondamenta, da quello che è fondamentale, quindi essere autosufficienti dal punto di vista alimentare, questo magari servirà di lezione anche a quelli che amano tutto quello che arriva dall'estero, ecco, mangiare italiano, bere italiano, comprare italiano, vestire italiano, viaggiare quando si potrà tornare a farlo italiano, io spero che quest'estate almeno qualche giorno sia concesso a voi, ai vostri figli, ai vostri nipoti, alle vostre mogli, ai vostri mariti, ai vostri nonni, ai vostri nonni che stanno portando una pazienza incredibile, il mio abbraccio in particolare va a loro, tornare a goderci, qualche nostra costa, qualche nostro lago, qualche nostro monte, l'Italia è il paese più bello del mondo, basta essere umiliati dalle richieste, dalle angherie, dalle umiliazioni, dagli insulti, dai ricatti che arrivano dalla Germania, che arrivano dall'Olanda, che arrivano da Bruxelles, che arrivano dall'Unione Europea, basta, italiani orgogliosi di essere italiani, buona Pasqua Massimiliano, buona Pasqua Yolanda, buona Pasqua Max, buona Pasqua Bruno, buona Pasqua a tutti gli italiani anche in giro per il mondo e in questi giorni sto sentendo italiani in Sud America, italiani in Svizzera, italiani in Belgio, italiani in imparare non ha niente da chiedere a nessuno, quindi buona Pasqua Mauro, buona Pasqua Fausto, buona Pasqua Roberto, buona Pasqua a tutti coloro che non vedono l'ora di tornare a lavorare, faremo tutte le pressioni del mondo presso il governo perché tutti i lavoratori, tutti gli imprenditori, tutti i precari, tutte le donne, tutti gli uomini siano garantiti e si possa tornare a far ripartire questo paese il prima possibile. Pensate che martedì in Austria riapriranno i negozi, in Germania molti stanno già lavorando da tempo, in Polonia stanno lavorando, in Svizzera stanno lavorando, in Turchia stanno lavorando e molte di queste imprese stanno già facendo concorrenza sleale agli imprenditori, ai lavoratori, ai commercianti, agli agricoltori italiani. Basta, basta, quindi che sia di lezione. Grazie, un abbraccio, vi voglio bene e chi è solo, chi chiuderà questa diretta appoggiando il telefonino sul comodino, tornando a essere senza speranza, senza futuro, con occhi tristi? No, ce la faremo, promesso, promesso, noi non promettiamo. Io personalmente non prometto quello che non sono in grado di mantenere, l'abbiamo dimostrato quando eravamo al governo, sulla legge Fornero, sulla flat tax, sugli sbarchi di immigrati, sul godice rosso per le donne, sulla legittima difesa, ce la faremo. Se stiamo insieme, se stiamo uniti, se non ci facciamo distrarre, se non ci facciamo deprimere, ce la faremo. Un saluto particolare chi torna a casa per festeggiare la Pasqua, a casa ovviamente con la sua famiglia, Angelo Peveri. Angelo Peveri che era in carcere a Piacenza fino a non molto tempo fa perché era stato accusato di omicidio. Lui con un suo dipendente perché si era difeso durante l'ennesimo tentativo di rapina è uscito. È uscito dopo quattro anni, quattro anni ingiusti, continuo a ritenere, perché chi viene aggredito nella sua casa, nella sua azienda, nel suo campo, nel suo negozio, nella sua farmacia, ha diritto di difendersi senza se e senza ma, come da legge fortunatamente approvata, grazie alla testardaggine e all'impegno della Lega. Angelo è tornato a casa. Quindi un abbraccio a te, un abbraccio a tutta la tua famiglia, un abbraccio ai bimbi, un abbraccio ai nonni e un pensiero, ed è veramente l'ultimo, ai disabili. Noi abbiamo fatto tante proposte di emendamenti ai decreti che sono passati in Parlamento o che arriveranno in Parlamento a sostegno degli italiani disabili, dei non vedenti, dei non udenti, di chi ha un ragazzo autistico, di chi convive con la malattia psichiatrica, di tante difficoltà che in questi momenti ovviamente pesano ancora di più che non in momenti normali. Per il momento non ci hanno ascoltato molto, abbiamo chiesto accompagnamenti per chi deve uscire necessariamente a rischio di perdere la testa. Continueremo a farlo perché non va dimenticato nessuno, nessuno, nessuno. Quindi in bocca al lupo preghiamo il buon Dio che ci stia vicino e quindi esco perché magari vi ho fatto soffrire un po' di claustrofobia, uno dei canticondomini delle periferie milanesi. E quello che ho le spalle è una gru che mi piacerebbe che tornasse a lavorare il prima possibile per dare speranza, per dare futuro, per dare lavoro, per dare pane, per dare ricchezza perché senza lavoro non c'è speranza, non c'è famiglia, non c'è sorriso, non c'è futuro. Vi voglio dire grazie e vado a salutare mio figlio e mia figlia e saluto voi. È come se foste in tantissimi, non dico figli e figli, però fratelli e sorelle. Ecco io ho solo una sorella, la saluto, l'abbraccio col suo bimbo Edo e col suo marito. Vi voglio bene come foste miei fratelli, miei sorelle, miei genitori, passerò dal balcone, dal piano terra al quinto piano, magari per lasciare la colomba pasquale che ero solito dargli personalmente, però quest'anno c'è l'ascensore che fa da giusto filtro. Un bacio, vi voglio bene e teniamo duro ragazzi, ce la faremo, usciremo e torneremo ancora più forti, più belli e più sani di come eravamo prima di questo maledetto e fottutissimo virus.